Lei all'inizio dell'esperienza del governo Crocetta aveva espresso fiducia, un sostegno a questo progetto che siamo un po' fuori dagli schemi. Adesso ha cambiato idea oppure continua con questo sostegno? Allora, un discorso è la volontà di cambiamento, un discorso è la capacità di amministrare. Allora, come è stato per il straordinario successo di Beppe Grillo in Sicilia, che ha dimostrato una volontà di cambiamento. La gente è arrabbiata che vuole cambiare e secondo me è positivo perché il fatto che il popolo siciliano chiede al cambiamento comunque è positivo. Il fatto di Luca Orlando che vince a Palermo fuori dagli schemi e anche quella è comunque una scelta dei cittadini che hanno detto proviamo a cambiare. E anche Crocetta rispetto a certi fenomeni negativi ben noti del passato è una discontinuità e quindi è una volontà di cambiamento. Dopo sulla capacità di amministrare, questo è un altro discorso, il discorso è il voler cambiare da parte degli elettori. Poi sulla capacità di amministrare, ti misuri sui fatti, se realmente sai fare quello che hai detto per la regione siciliana e per il popolo siciliano. Quindi da Verona è un po' distante forse, quindi un giudizio? L'impressione è che forse la Sicilia ha bisogno di riforme profonde, che si spendano i soldi in modo diverso, che si faccia delle cose veramente importanti. Serve la svolta. L'impressione dall'esterno è che questa svolta non ci sia stata. Due tappe in Sicilia per la Fondazione Tosi, Palermo e Catania. È un messaggio nuovo nel senso che la Lega si apre anche al Sud? Può essere una nuova prospettiva per le elezioni future? Io vengo in Sicilia, come sono venuti altre volte, qui e come anche al Sud, dicendo le stesse cose che ti guadagni anche in Lega e magari con il precedente segretario federale su questo ci eravamo anche scontrati. Ovvero sì è il fatto che uno, questo paese si salva assieme o affonda assieme. E due, che la Sicilia ha voglia di cambiare. Se tu parli con gli imprenditori, con la gente per strada, la gente vuole cambiare. E quindi portare un messaggio che è quello del buon governo, dire spendere bene i soldi pubblici, ben amministrare, far funzionare i servizi. Io credo che se il cittadino gli dà la possibilità di essere ben governato o mai governato, scegli il buon governo assolutamente.